Altro che fragole e bollicine, la vera copiata vincente è il risotto e gin tonic. Il risotto per me è come un abbraccio rassicurante. Ho imparato a prepararlo fin da piccolo e crescendo ho sperimentato tante variazioni e sapori. Il mio preferito rimane sempre il classico risotto bianco, che questa volta ho sfumato con il gin in apertura e con la tonica Fevertree in chiusura. La freschezza del limone si sposa perfettamente con il leggero profumo di rosmarino della tonica Fevertree per un'esplosione unica di sapori. Scopri tutti i gusti delle toniche Fevertree e brindiamo a quest'estate.